Possiamo dire che una protesta giusta sulla quale mi sono già espresso è che a tutti i crismi della legalità, della legittimità bisogna essere vicini a chi ogni mattina si alza alle quattro e mezza e prova a portare a casa il pane per sé e il pane per gli altri perché il mestiere agricoltore è uno dei mestieri più duri che possa esistere e ci sono dei temi estremamente sensibili sui quali la politica deve interrogarsi. Primo tra tutti la problematica dei cinghiali per passare attraverso l'uso dei fertilizzanti evidentemente su qualcosa bisogna lavorare, c'è anche il tema importantissimo dell'incetta dei terreni fertili per buona parte le multinazionali stanno facendo incetta di questi terreni per dedicarli al fotovoltaico su questi temi giustamente gli agricoltori sono preoccupati ma dovrebbe essere anche la politica dovremmo essere tutti noi perché sfugge a qualcuno che il cibo che mangiamo proviene da quel lavoro e dalla fatica di queste persone.